Benvenuti a bordo comandanti, io sono Blizzard e oggi siamo qui con Alexander Nevsky, incrociatore leggero tier 10 sovietico, nave che offre diciamo una variante al Petropavlovsk nel compartimento cruiser sovietico quando la Wargaming deciderà di rilasciare queste navi nel server europeo e in tutti gli altri. Siamo qui praticamente su NW, una delle mappe nuove diciamo create dalla Wargaming sul finire del 2019, è una mappa che a me non piace per niente, è terribilmente casuale e con un numero assurdo di isolette da questa parte che offre semplicemente un vantaggio solo una categoria di navi e questo categoria di navi non è sicuramente il Nevsky. Come da dire non c'è la Portaeri, 5 battleship squadra, Shimakaze Kagero dalla nostra parte contro Gehring Akitsuki dall'altra, tenete d'occhio noi, la mosca del giocatore Super Furret e soprattutto la Borgogne dei Roe RN, clan rumeno di Lega Uragano perché sostanzialmente saremo noi tre i protagonisti di questa partita, saremo noi tre che letteralmente faremo un rimontone che voi non potete immaginare e vedrete durante la partita. Il nemico subito si dimostra nettamente superiore a livello Destroyer con una maggiore aggressività verso il centro ma soprattutto una totale dominazione della zona centrale della mappa che diventerà veramente totale tra pochi secondi. Il Nevsky è un incrociatore con 50.900 HP e un interessante 19% di danno a riduzione di sciduro sullo scafo che comunque, viste le sue scarse capacità di virata, lo rendono veramente difficile da gestire quando i Destroyer cercano di prendere di mira con i torpedo. Le sue velocità massime di 36 nodi è veramente impressionante, è uno dei incrociatori tier 10 più veloci con un 940 metri di raggio virata, timone che risponde in 11 secondi e mezzo. Guardate subito come sono entrati in azione i nostri 180 mm armati inerzia fuse, questo perché il Nevsky è a tutti gli effetti un incrociatore leggero dal punto di vista offensivo ma non lo è per niente dal punto di vista difensivo e ve ne renderete conto tra qualche minuto quando dopo la partita vi mostrerò il compartimento armatura ma anche solo i danni che riusciremo a tancare vi faranno pensare soprattutto ma che razza di incrociatore leggero è con questa armatura? Perché non è assolutamente un incrociatore leggero, però ehi è sovietico quindi diamogli anche una super armatura. Per quanto riguarda le sue capacità stealth sono molto scarse, 12 chilometri e 600 metri full lato di avvistamento via acqua e circa 7 chilometri e 200 metri di avvistamento via aria. Per essere un incrociatore leggero non è assolutamente stealth come tanti altri, pensate ad esempio al Minotaur o al Worcester oppure allo stesso Smolensk o al Colbert francese, però sicuramente è una questione di bilanciamento il fatto che se gli avessero dato anche un super stealth sarebbe stato veramente esagerato e già lo è, è una nave assolutamente esagerata nelle mani di un giocatore capace. La Tirpiz decide di darci così senza senso il fianco, noi quindi utilizzeremo i nostri 180 mm che passano ad la P e poi torneremo ai nostri proiettili HE. Le batterie principali sono 4 torre binate appunto da 180, io le armo IFKE come vi consiglio di fare, 6 secondi di rilò, 18 secondi per ruotare di 180 gradi, 19 chilometri e 40 metri di raggio d'azione, una dispersione ridicola, 164 metri di dispersione praticamente a massima distanza è qualcosa di allucinante, è di fatto uno degli incrociatori più precisi del gioco in assoluto. Affondiamo la Tirpiz dopo che essa aveva appena affondato la nostra Bismarck scellerata e avendo perso anche la Republic andiamo mestamente verso il centro, considerando che comunque dovremmo avere a che fare prima o poi con i due smolens nemici. Per quanto riguarda le Fire Chance sono del 13% se voi le utilizzate praticamente così, senza IFKE, cosa che appunto vi sconsiglio, ma se gli montate sopra questa skill scenderete al 6% ma avrete una penetrazione decisamente maggiore, questo ovviamente perché stiamo parlando di una nave che si gioca attualmente con il post rework di Inertia Fuse o miccia inerziale se usate il client in italiano. Per quanto riguarda i più separati sono fenomenali a livello di velocità, 1000 metri al secondo, sono come quelli del Venezia praticamente, guardate un po' infatti riusciamo a sparare sul Des Moines a 15 con grandissima facilità. Il danno H è di 2500 che non è particolarmente alto, il danno AP è di 4450, sì ragazzi come i 220 millimetri del Petro Pavlos, quindi nonostante abbia un calibro inferiore è veramente potentissimo a livello AP nonostante appunto i 180 millimetri. Occhio adesso perché faremo una manovra scellerata ma è una manovra per cercare un break della partita perché non mi va di restare a max distance e farmi disintegrare perdendo mestamente considerando che il nemico controlla tutti e tre le zone principali di cap. Spingiamo in avanti, arriviamo a 9 più chilometri e 6 dallo Smolensk, Smolensk ovviamente va in smoke ma ha alcuna possibilità di salvarsi perché abbiamo il Mosca a supporto perché abbiamo un radar a disposizione e quindi lo Smolensk comincerà adesso lentamente ad essere tirato a manetta dai nostri 180. Guardate come alzo e abbasso il tiro per capire un po' come si comportano questi proiettili, ovviamente è una partita che non mi interessa vincere o perdere, semplicemente è un test, non mi va di essere massacrato di fare la figura del fesso però è anche interessante testare un po' i colpi e vedere come si comportano sull'armatura di un incrociatore che si incontra spesso ormai in battaglia come l'OP incrociatore Smolensk. Imbarchiamo i ringraziamenti del Mosca, anche se lui sicuramente non è da meno, ha fatto una grande partita alla fine del match come anche dicevo la nave premium alleata con il rumeno a bordo. Per quanto riguarda i siluri, perché lui sì è un incrociatore leggero che monta i siluri, due lanciatori quintupli, uno per lato, siluri fino a 69 di 8 chilometri, io quasi lo considero un punto di forza questo perché considerate che 8 chilometri per un incrociatore sovietico torpedo sono particolarmente lunghi e 533 mm di testata classica a 14.400 di alpha damage. Abbiamo già tancato un milione praticamente di danno, siamo a 73.000, due kill, guardate un po' il nemico controlla tutti che, guardate il punteggio, hanno praticamente 500 punti di vantaggio, 500 punti di vantaggio, un numero smisurato, ma non è ancora finita ragazzi, questo gap si aprirà ulteriormente tra pochi secondi. Parliamo un attimino della sua antiera che è impressionante, io infatti se guardate lo uso senza defense fire, ma solo con advanced fire and training a bordo, sono batterie da 180, 57, 100 mm, sì ragazzi 180 mm, anche le batterie principali sviluppano praticamente il danno antiero, intanto ringraziamo la classica ambulanza che va a soccorrere qualche disgraziato in preda al covid-19 nella nostra zona e proseguiamo. Dicevo fino a 6 chilometri con AFT a bordo, 300 quasi di danno continuativo sugli aeroplani, è veramente un'antierea mostruosa, anche le portiere tier 10 soffrono tantissimo il Nevsky quando le cose si mettono male. Arriva anche la seconda ambulanza, le cose si mettono male per il poveretto sicuramente che deve essere portato probabilmente agli spedali civili di Brescia. Intanto torniamo al Mainz, povero disgraziato che decide di farsi avanti, guardate un po', siamo arrivati praticamente a 835 a 300, abbiamo solamente 550 punti da recuperare, ma tutto va bene, anche perché siamo anche sotto 7 contro 6, ma sono rimasti oggettivamente i 6 giocatori migliori della nostra squadra e quindi cerchiamo una lentissima rimonta che però proveremo ad attuare. Parliamo infine dei suoi consumabili che potete vedere in basso, oltre infatti al classico damage control, abbiamo il Sonar potente sovietico, 3 chilometri e mezzo di spotting sui siluri, 5 chilometri sulle navi, il Sonar che praticamente dura per circa 20 trattro secondi con a bordo il modulo e con il carbone che vi consiglio di montare, fino a 12 chilometri classico radar sovietico e praticamente io ci metto il final repair party classico, questo non è nulla di che. Il Sonar, come ho detto prima, io lo preferisco rispetto al classico AFT, no scusate, il Defense Fire, questo perché? Perché oggettivamente questa nave secondo me a livello antiaereo va già bene, le porte aerei le incontrate, sì ma siete comunque dei cruiser, non siete l'avversario principale delle porte aerei, è molto più un problema infatti imbarcare il torpedo rispetto alle porte aerei, almeno quando giocate a questa nave, ve lo posso assicurare. Ora prendiamo di mira le sovrastrutture dell'Alsas, che praticamente è chiusa, non può dare, non può assolutamente scappare perché ha un isolone gigante sul fianco sinistro, comincia il nostro push combinato al centro, guardate un po' Borgogne, Yoshino, Mosca, Thunderer e Ohio, qui l'unico fesso in azione è stato più o meno lo Yoshino perché si è messo praticamente in una posizione super avanzata ed era la nave oggettivamente con l'armatura più debole di tutta la nostra formazione, sì ragazzi più debole anche del Nevsky, però è di punta e quindi sapete anche voi che quando uno Yoshino si mette di punta, specie quando deve caricare gente come Yamato, Borgogne, Thunderer, non fa una bella fine, però è impavido e bisogna dargliene atto. Si fa avanti lo Yoshino nemico che probabilmente deve essere della stessa scuola del nostro Yoshino alleato, noi siamo ancora con le HE ma se non sbaglio passeremo presto alle AP, questo perché, ve l'ho detto prima, questi 180 mm armati AP sul fianco possono fare malissimo alle Bateshi, figuratevi agli incrociatori, specialmente a una cittadella galleggiante, o meglio dire uno zatterone come lo chiamiamo noi, come lo Yoshino. Cominciano ad arrivare i nostri AP, eccoli qua che arrivano puntualmente sull'incrociatore giapponese, arrivano anche le cittadelle come era prevedibile, e poi, ragazzi, ci pensa il nostro Yoshino alleato con i suoi AP a disintegrare lo Yoshino nemico. A questo punto cosa facciamo? Restiamo qua, siamo indecisi se andare di HE o di AP, ma sì, perché no, proviamo le AP anche sulla Yamato, guardate, a 17 km e mezzo entrano queste salve sulle sovrastrutture della Yamato. Occhio, perché arrivano, stiamo fissando un po' il mirino. 6.000, 5.000, 4.000, con dei 180 mm, 7.300! Cioè, ragazzi, è incredibile il danno, guardate, 5.200, 180 mm a 17,5 sulla Yamato. Ora, che è che la Yamato non è particolarmente tosta a livello armatura, perché ovviamente fa del suo lato offensivo il suo principale punto di forza. Però, ragazzi, fare 5.000, 6.000, 7.000 sul fianco di una corrazzata a 17,5 km con dei 180 mm è oggettivamente una nave veramente esagerata, questa Nevsky. È veramente un incrociatore che, secondo me, andrà completamente a rivoluzionare anche da un lato il lato competitive, perché questa nave, secondo me, andrà a formare, diciamo, il punto di forza principale delle squadre cruiser all'interno delle competizioni del futuro. Secondo me vedremo tantissimi Petro Pavlos e tantissimi Nevsky in azione, perché è un flanker completamente diverso degli altri flanker. Ha un'armatura decisamente superiore persino ad alcuni incrociatori pesanti, ha un reto di fuoco straordinario, ha un radar, ha il sonar, ha il defense fire volendo, montandocelo sopra, ha una capacità di incendio notevole, è in grado di fare danno sia a livello P sia a livello HI, si muove velocemente sulla mappa è insomma una specie di misto tra un Henry, uno Zhao e un Indenburg tutto messo insieme. Una nave veramente esagerata, secondo me, e allo stato attuale è veramente troppo, troppo potente. Conoscendo la Wargaming, potrebbe anche arrivare un nerf, ma potrebbe anche non arrivare, perché trattandosi di una nave sovietica e vedendo che è successo della Cremlino quando è stata rilasciata, con il buff una settimana prima del rilascio, potrebbero anche rilasciarlo in queste condizioni, e la Wargaming lo farebbe senza batter ciglio, solo perché è una nave sovietica, e vogliono cercare in qualche modo di arrufianarsi la player base russa, dopo che questa ha di fatti abbandonato il gioco in gran numero ad iniziando, considerando che la Wargaming sul server russo ha perso quasi un quinto di tutta l'utenza totale negli ultimi sei mesi. Guardate un po', la Thunderer dimostra tutta la sua pochezza, classico giocatore, ragazzi, che ha preso probabilmente la nave, non lo so, scioppandola da qualche parte, ma non ha la minima conoscenza di questa nave. Guardate, noi gli diamo il Brothside anche perché sappiamo che non ci fa nulla, perché è talmente pirla da non passare ai proiettili AP, considerando che monta i 457, che continua imperterrito a spararci con i suoi proiettili HE. E noi guardate, gli diamo il Brothside così, senza il minimo rispetto. Siamo arrivati a 190.000 di danno, guardate, controlliamo totalmente tutto il CAP, abbiamo spazzato via tutte le navi, perché guardate all'inizio eravamo praticamente 6 contro 7, siamo rimasti 1 contro 4, nel senso, abbiamo cancellato qualcosa come 6 navi, perdendone solo 2, solo 2. E se lo Yoshino era veramente così furbo, non si sarebbe fatto nemmeno affondare. Ragazzi, termineremo la nostra partita intorno ai 210-220.000 danni, ma è inutile andare avanti anche perché adesso la Thunder supera l'isola, tornerà a nostra disposizione, io e il Moskari finiremo per farmarci la vicenda, un po' come uno squalo bianco che si mangia un tonno, e quindi penso sia inutile farvi vedere questa partita che ormai è ridicola. Andiamo quindi al compartimento armatura della Nevsky, che è il seguente, come potete vedere, compartimento armatura che ha nulla a che vedere con il fatto di essere un incrociatore leggero, sovrastrutture da 13 mm, le torri le lasciate così perché sono praticamente identiche a quelle del Donskoy, 25 mm a prue a poppa con un ponte di 25 che diventa di 30 nella zona centrale, 25 mm sopra il fasciame laterale, e un solito timone russo sovietico superpotente da 40 mm, praticamente quasi impossibile da danneggiare. La zona bassa c'è un rivestimento da 30 per appunto ridurre il danno dei torpedo, e poi il classico fasciame da 50 a metanave nella zona di Prua, che è un po' un classico di tutti i cruiser principali della linea sovietica ultimamente. Per quanto riguarda la cittadella, è la seguente, c'è questo fasciame da 140 perché è sì ragazzi, un'armatura spaziata su un incrociatore leggero, voi non ci crederete, ma guardate, in grande l'immagine, è esattamente così, 140 di spaziata sul fianco e diventa di 130 sulla cittadella, 40 mm bassi, 50 nella zona che divide il ponte dalla cittadella. Non ha nulla a che vedere con un incrociatore leggero. Questo è un finto incrociatore leggero perché con un incrociatore OP mascherato da Cruiser Light per cercare di disintegrare qualsiasi altro Cruiser Light del gioco. Questo è l'incrociatore leggero con l'armatura migliore di tutto il gioco e caso strano è sovietico. I punti di forza della nave sono i seguenti, brandeggio torri molto rapido, l'avete visto, un reato di fuoco importante, l'avete stravisto, solo in fino a 8 km, considerando che solitamente sui sovietici vanno a meno, io lo considero un punto di forza, molto veloce, ragazzi, 36 node base, anti-aera notevole, armatura superiore a qualsiasi altro Light Cruiser. Ve l'ho spiegato nel dettaglio. È una porcata, è una nave potentissima che secondo me veramente andrà a distruggere qualsiasi altro incrociatore leggero, ma la Wargaming fa anche queste cose quando parla di navi sovietiche. Per quanto riguarda i contro, sono pochissimi. Ragazzi, lo scarso mimetismo perché nonostante sia un Cruiser Light ha allo spotting dei peggiori Cruiser, questo è il suo veramente unico punto debole, raggio violato a 940 metri. Ho voluto veramente trovare l'ago nel pagliaio, questo perché essendo un Cruiser che gioca a distanza per sfruttare anche il suo tiro teso e quel quale è facile colpire gli altri, non ha realmente bisogno di un grande timone perché raramente riuscirete ad essere focussati oppure vi ritroverete nelle condizioni in cui qualcuno possa impensurirvi, anche perché avendo un radar i Destroyer vi dropperanno a grandissima distanza i siluri e voi se utiliterete il Sonar come ho utilizzato io in combo con il radar praticamente i Destroyer non vi faranno nulla. L'unica nave che può farvi male davvero è magari la Curio per via delle sue solite bombe e tutto il resto e poi ragazzi le batteci ma le batteci devono veramente prendervi molto bene per danneggiarvi altrimenti questa nave è veramente OP da far schifo. Questo ragazzi era il Nevsky, il re dei nuovi Cruiser leggeri, nave che insieme al Petro Pavlov secondo me andrà completamente a sbilanciare il reparto Cruiser all'interno delle random di World of Warships perché queste due navi il Petro Pavlov e il Nevsky andranno a monopolizzare le random battle almeno per quanto riguarda il compatto di Pento Cruiser esattamente come lo Smolensk è nato a monopolizzare il reparto Cruiser Light anche se si tratta di una nave premium. In questo caso è una nave della linea però devono renderla appetibile appunto perché è sovietica e quindi la stanno facendo più potente di quello che è però veramente è potentissima comandanti. Da Pellizzardo è tutto noi ci risentiamo al prossimo video ciao comandanti.